eh ma sopra ce ne stanno il 1 o forse il 2 c'ho pulso sopra aspetta eh c'ho anche alibi c'ho anche alibi fatta c'era pulso ok ok chi è il giaggo? affanculo pulso oh dimmi che ti stai espirando non lo vuoi? lo smoke davanti quello eh adesso lo smoke qua dentro non lo so si lì dentro? si mi sa che hanno rotto la botta e uno è sceso si smoke è morto 2 dentro va bene porco dio a sinistra a sinistra 1 di vita bambi che non muore a 10 di vita bambi non puoi più sfricciare oh c'è una tua madre avevo un colpo era l'ultimo questo non avevo più colpi il mio bandit aveva uno di vita sorry man sorry i want eh ho colpito un po' blitz shit no madonna mi spaccano qua niente ero inculato ero inculato techer fuori eh ok b a sinistra techer fuori era fuori dalla finestra si non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno techer si c'era 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 curami joseph ah no bar alba l'avete pulito ah no a sinistra si a sinistra eh te l'ho detto shit cazzo facevo puoi entrare dai buchi eh e la salva sempre lui che ta 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 mi ha detto ma infatti ha ying che ha pushato da dietro io non avevo il defuse bravo oh l'ha preso in testa bravo 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 cico e adesso ah no l'ho detto che si e ed l'ho è il ed ed la faccia che dovevamo perdere mi esce perchè entità nascosta? le cam le avete fatte niente regà non ci riesco a ammazzarlo col merda di maestro dove? nella finestra quella lì fuori dal corridoio quello esterno palipi è risalita vengo a bandy e tu gli dito non esce ci hanno frost? ci hanno frost? si che hai fatto ela fatto maestro fatto tutti ehm esce e se io non volessi? ma cosa mi ha ucciso? raga dietro è stampo di computer eh ma no è qui cerca di vederlo da qui no ha montoni più forte oh da 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 dov'è? che cazzo le chi l'ha visto? nessuno? riponi raga sia ci sono ma puça quanti ne hanno?! anche tu puoi puce bana mi ciasce non è finito non è finito e anche tu devi capire non è finito no nitro che forza da quella distanza mi esce nitro c'è l'altro l'alto a destra vai si buscia corridoio va corridoio cico è ostentito manca arrivata di gioco e il vento è dietro gioco la sinistra cico l'intervento ora la faccia di che hai fatto un bel coad e martin ben fai stimi la ragazza e stimi la risa no perché ha fatto lo spunto ma che palle quindi dove saltare lì Provisional Broly Eh ma non ce la faccio Copremi giù al posto di sparare Bandita è one shot Piazza ti hai la clamor eh Sì ok Proprio così a cazzo d'oro io volevo dronare Bandita era sotto Geisha non c'è nessuno No Geisha c'è la grande Jagger Ah Geisha c'è Jagger Sto laggando Sto laggando maestro Da dietro Madonna Ho guardato dietro e ha iniziato a sparangirci a uno Alla boh Preso Vigil C'è uno in karaoke E' il bandit Te lo spotto e falli wallbang Vabbè Bandit Bandit Guarda Bandit Guarda Bandit E dentro c'è anche Aspettate Aspettate Un po' Un po' Un po' Ehi sei 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 Fallo Madonna Già Stavo avendo a arrivartelo come un infame Dove sta blitz Sceso Guarda Dove Sì Acosta Fight Sì W Un po' Un po' Un po' Un po' ...prevent further access to the biohazard... ...op 4 eliminate the use of mission success.